Sono migliaia i nostri concittadini che all'estero vivono ormai stabilmente da anni, poi ci sono però anche coloro che all'estero purtroppo sono rimasti bloccati a causa di questa emergenza. Noi di Radio Cusano TV Italia abbiamo deciso di dedicare una rubrica apposita, così da essere vicini a questi nostri concittadini in questo momento di crisi e anche per raccontare senza filtri gli sviluppi di questa emergenza negli altri paesi. Oggi abbiamo in collegamento Skype Marco De Rigi, uno studente tirocinante all'Università di Iene in Germania. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito. Salve, grazie a lei. Allora innanzitutto come va? Come stai vivendo questa emergenza lontano da casa? Diciamo che è un po' strano, purtroppo questa emergenza nessuno se l'aspettava e diciamo che qui la situazione è degenerata. È stata molto più tardi rispetto all'Italia, circa 14 giorni fa hanno chiuso le scuole, mentre in Italia era già tutto bloccato e fino a una settimana fa la vita continuava quasi normalmente rispetto invece a quello che succedeva qui. Non ne avevamo alcuna idea di quello che succedeva in Italia. Solo nell'ultima settimana le cose sono peggiorate e appunto ci sono state molte misure restrittive che ancora oggi sono in vigore e saranno sempre più restrittive con il passare dei giorni. Siete tanti gli studenti italiani in questo momento all'Università di Iena, tu ne conosci o almeno quelli che conosci tu? Io ne ho conosciuti pochi purtroppo perché comunque sono un tirocinante che fa fede all'Università di Napoli e diciamo sono qui in veste di tirocinante perché devo laurearmi a breve. Però sì, ho conosciuto qualche italiano che comunque sta lontano da casa, anche da più tempo di me e non tornerà a breve. Invece io dovrò tornare perché comunque è giunto quasi al termine il mio tirocinio. Tu quindi hai in programma di ritornare, come ti stai muovendo? Sì, ho già prenotato un biglietto aereo perché ho visto che gli voli di rimpatrio sono confermati fino al 5 aprile. Sono due voli da Francoforte e uno da Monaco e spero comunque di prenderne, di riuscire a partire con uno di questi. Quindi non con un aereo proprio adibito al rimpatrio, un aereo normale, di linea? Sì, un aereo di linea, anche se comunque c'era la scelta di quelli di rimpatrio, soltanto quelli di rimpatrio erano più avanti nel tempo. Quindi ho preferito tornare prima uno di linea, che potrebbe essere cancellato in qualsiasi momento, in effetti. Quindi sai già se dovrai attenerti ad alcune misure precauzionali prima di partire e anche quando arriverai? Ho telefonato all'ambasciata italiana che mi ha dato delle indicazioni sul fatto che devo avvisare l'ASL e il comune del paese dove vivo per dichiarare che io torno dalla Germania e che devo mettermi in quarantena, in quarantena forzata e sicuramente ci saranno misure anche restrittive in aeroporto, come mi hanno già confermato alcuni miei amici che hanno preso il volo questi giorni. Che genere di misure? Diciamo sempre misure relative alla distanza, di due o tre metri l'uno dall'altro e poi si può portare soltanto un bagaglio a bordo, quindi anche bagaglio a mano e zaino insieme non possono andare. Molti non lo sapevano, hanno rifatto molti la fila del cecchino, c'è stato un po' di casino. Però poi inoltre le mascherine mi hanno detto che sono obbligatorie, anche se in Germania ormai non si trovano più e quindi spero le diano all'Italia, anche perché io al momento non ne sono provvisto di mascherine. Va bene Marco, io ti ringrazio per la tua testimonianza, ti faccio il mio più sentito in bocca al lupo, spero che tutto vada bene con il tuo rientro. Grazie mille. Grazie, buona serata. Grazie.